Don Giussani scopriva con costernazione il crescente divario tra la pietà formale dei giovani e la loro cultura intellettuale sempre più estranea al mistero della fede. Per superare questo divorzio tra la fede e la vita, egli ha creato un metodo originale e provocatorio che costringeva i giovani a prendere posizione a seconda delle personali convinzioni. Giussani non solo rinnova il vocabolario a partire dall'esperienza, egli insegna a vedere le realtà della fede in un modo che consente di provare la verità di quanto si crede e di giudicare ogni cosa in questa luce. Una simile esperienza è liberatoria perché rafforza la coscienza di appartenere al mistero di Cristo e di parteciparvi attivamente. Il carisma di Don Giussani è più che un'abilità, una virtù o il messaggio di una personalità affascinante. Il suo carisma è lui stesso, in quanto persona unica che lo Spirito di Dio ha unito a Cristo per una missione singolare nella Chiesa. La vita di Don Giussani, di Alberto Savorana, riesce a dare un bel disegno di questa figura carismatica e a convincerci che, cito, la gioia più grande della vita dell'uomo è quella di sentire Gesù Cristo vivo e palpitante nelle carni del proprio pensiero e del proprio cuore. Questa biografia non ci lascia come eravamo prima di cominciarne la lettura, ma ci interroga e può trasformarci.